Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi del telegiornale la dedichiamo all'insano gesto commesso oggi a Gela da una donna di 33 anni a bordo della sua auto si è tolta la vita gettandosi in mare al porto rifugio, è deceduta per annegamento, lascia tre figli, vediamo A tutta velocità a bordo della sua macchina si è lanciata in acqua mettendo fine alla sua esistenza lei è una donna gelese di 33 anni, Sara è deceduta per annegamento, l'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 al porto rifugio è stato un testimone oculare a chiamare i soccorsi, ha riferito che la 33enne ha prima rallentato con la sua vettura una Opel Corsa e poi è ripartita senza fermarsi, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, la polizia e gli uomini della guardia costiera gli agenti della squadra nautica della locale commissariato hanno immediatamente chiamato in ausilio il personale del 118 ma per la donna non c'era più nulla da fare, seppur nell'evidenza del decesso sono state eseguite le manovre di rianimazione sperando in un miracolo, ma così non è stato la vittima accusava problemi psichici ed anche di natura sentimentale, era seguita dagli assistenti sociali del comune lascia tre figli, due giovani ed un ragazzo, due dei quali avuti con il precedente marito ed uno con l'attuale compagno la salma della donna è stata recuperata dai pompieri, i vigili del fuoco hanno recuperato anche la vettura in fondo al mare sullo suo profilo facebook la vittima nelle ultime ore aveva postato numerosi video di cantanti neomelodici ed anche delle foto in una di queste come in un presagio c'è scritto biglietto di sola andata, lontano da tutto e da tutti deve rispondere di furto aggravato, il gelese di 45 anni arrestato dai carabinieri si tratta di chetano fiacca brino che vediamo nella foto ieri durante i servizi preventivi di controllo del territorio i militari dell'arma sono stati allertati da un vigilantes della società La Sicurezza per un furto che si stava consumando di un grande quantitativo di uva da tavola in contrada Ponte Olivo giunti sul posto i carabinieri hanno intercettato il malvivente riuscendo poco dopo a bloccarlo l'uomo aveva già raccolto nella sua auto oltre 500 kg di uva pregiata sottratta da una vigna di proprietà privata la revurtiva che messa sul mercato avrebbe fruttato oltre 2.500 euro è stata restituita al proprietario l'arrestato è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida cambiamo argomento e adesso occupiamoci dell'ennesima richiesta di dimissioni della sindaco di Gela Domenico Messinese avanzata dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle la vicenda è quella legata al progetto piattaforma prezioso K Messinese deve dimettersi perché non ascolta nessuno perché realizza politiche contrarie alla volontà degli elettori che lo hanno eletto perché continua a seguire chi ha distrutto questa città lo chiediamo da mesi e lo ripetiamo con più forza oggi di fronte alla resa di un'amministrazione che non ha nessun programma e non segue nessuna politica le dimissioni sono un atto di rispetto per i cittadini il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle attacca il primo cittadino e chiede il momento che lascia la poltrona di sindaco per i pentastellati non serve negare l'evidenza perché l'evidenza parla da sola il vice sindaco Simone Siciliano dicono i Grellini, oramai unica voce autorizzata a parlare per l'intera amministrazione dichiara che la rinuncia di Eni a realizzare prezioso K è una volontà dell'amministrazione una scelta precisa di tutela ambientale addirittura si aspetta le lodi da parte della città l'evidenza rincarano i Grellini è una prova sufficiente per smentire il vice sindaco mai eletto da nessuno esattamente un anno fa presentava al Consiglio Comunale il suo accordo di programma non condiviso diceva la città che verrebbe realizzato quanto previsto nel protocollo del 6 novembre del 2014 il Movimento 5 Stelle rimaneva coerente al suo programma mentre il vice sindaco andava sulla stessa strada di Eni e del Partito Democratico che avevano firmato il protocollo l'amministrazione messinese dice il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto il protocollo dicendo che andava portato avanti tanto che durante il referendum sulle trivelazioni il sindaco messinese espulso per violazioni varie dal Movimento 5 Stelle dichiarava che non tutte le trivelazioni sono uguali come a dire che Prezioso K era meglio di altre il Movimento 5 Stelle ha sempre detto alla città che Eni faceva l'ennesimo bleff che per l'ennesima volta non si realizzava nulla se non mera ed inutile progettazione soldi spesi per studi di fattibilità che alla città non lasciano nulla e che fanno contenti solo coloro che realizzano gli studi e il progetto visto che poi vengono pagati si spera il vice sindaco nega il suo stesso comportamento le sue politiche e le sue scelte rinnega se stesso di fronte alla triste verità del fallimento nel più duro trasformismo politico cambia faccia e cambia gioco prima si a Prezioso K ora Prezioso K non si deve fare l'amministrazione messinese e chiudono i grelini elenca numeri e carte ma l'unica verità è che continua a mentire alla città che continua a seguire le politiche del colosso petrolifero verso il referendum costituzionale le ragioni del sì è l'argomento che sarà trattato oggi alle 18 ore locali dell'ottore Sileno di Gela su iniziativa dell'associazione Centro Studi Salvatore Aldisio modererà Lillo Giardina presidente del centro saranno presenti Giuseppe Lupo vice presidente dell'assemblea regionale siciliana e Ettore Rosato capogruppo PD alla Camera dei Deputati un indirizzo mail per dare consigli e suggerimenti su cultura e turismo a Gela l'idea è del Partito Democratico che ha messo a disposizione dei cittadini l'indirizzo di posta elettronica culturaturismo.pdj la chiocciola gmail.com l'iniziativa nasce dalla considerazione che cultura e turismo sono sempre di più al centro del dibattito politico di questi ultimi anni tanto da essere riconosciuti come uno come due degli assi fondamentali per lo sviluppo dei territori e quanto sottolinea Giuseppe Cammerata responsabile cultura turismo e comunicazione del Partito Democratico di Gela chiederanno un incontro all'assessore regionale Baldo Gucciardi per avere una maggiore chiarezza in merito al tema della sanità in Sicilia e per ritornare dunque su quell'atto che la conferenza dei sindaci aveva approvato in passato in merito alla rete ospedaliera siciliana questa la conclusione della riunione dei primi cittadini di questa mattina 22 settembre svoltasi nell'aula consigliare di Palazzo del Carmine la sanità e soprattutto la questione relativa ad una possibile riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana al centro dell'attenzione della conferenza dei sindaci un incontro che è stato convocato dal primo cittadino nisseno Giovanni Ruvolo in qualità di presidente della conferenza si fa riferimento dunque con decisione a quell'atto approvato dalla conferenza che insieme all'ASP e all'assessore regionale disegnava una rete ospedaliera in Sicilia che garantiva i due presidi di Caltanissetta e Gela a cui si collegavano gli ospedali di Niscemi Mazzarino San Cataldo e Mussomeli così da rispondere alle esigenze del territorio per la salute dei cittadini alla luce dei fatti che la cronaca ci ha raccontato di una riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dalla regione che è completamente distante da quella che per la nostra provincia avevamo concordato insieme questo per noi è inaccettabile anche perché questa provincia ha sempre subito dei tagli ha sempre subito delle mortificazioni rispetto ad altri territori noi abbiamo detto basta vogliamo riconosciuto il diritto alla salute per tutti i nostri cittadini e vogliamo che i servizi sanitari siano elevati anche perché molti cittadini scelgono di farsi curare fuori arrecando un danno anche economico alla nostra regione quindi oggi siamo qui per ribadire la necessità di allocare delle risorse e delle somme qui sul nostro territorio garantire più di tutto i servizi esistenti e anzi implementare perché ne abbiamo assolutamente bisogno perché ad oggi c'è incertezza su tutto quanto viene detto nello stesso tempo contraddetto ritirato o portato avanti noi chiediamo semplicemente la certezza che vada avanti quel piano che era stato già trattato nei mesi scorsi negli anni scorsi hanno scemi un pronto soccorso autonomo con i posti letto che avevamo identificato e portare avanti praticamente il Mecao quello che si era stabilito da lì a palesare una chiusura di pronto soccorso si hanno scemi che in tutta la Sicilia si parla di 14 della della soppressione di 150 reparti ora se non c'è certezza su tutto questo noi continueremo perché nell'incertezza bisogna agire già ci hanno scippato negli anni passati dell'ostitrice ginecologia pediatria quindi oggi abbiamo stiamo mettendo in un certo senso le mani avanti nell'incertezza fino a domenica 25 settembre si svolge Match It Now la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoieti che anche Gela scende in piazza domani mattina in Viale Corti Maggiore a Machitella in collaborazione con la Croce Rossa i VIP clown di Caltanissetta e con il patrocinio del comune di Gela i volontari di Admo Gela e di Adoces Sicilia Ollus accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche l'appuntamento è nella zona dei muretti di Machitella è stata presentata questa mattina nei locali del teatro Eschilo di Gela la seconda edizione del programma alternanza scuola lavoro è stata l'occasione per illustrare le diverse iniziative in ambito formativo promosse da Eni sul territorio giadese sentiamo Marco Coccagna amministratore delegato Eni Corporate U University Gli obiettivi sono quelli di favorire lo sviluppo del sistema duale ossia un modello di formazione che vede fortemente integrati e sinergici la formazione ovviamente fondamentale che eroga la scuola con la formazione che contribuisce ad erogare l'impresa nel caso specifico Eni che ha deciso di organizzare una serie di iniziative fra di loro integrate che vanno dall'alternanza scuola lavoro che abbiamo già avviato con grande successo nello scorso anno scolastico con 200 studenti coinvolti e con 16.000 ore di formazione già erogate iniziativa che si aggiunge alla stipula avvenuta in questi giorni di 22 contratti di apprendistato di primo livello per 22 giovani gelesi che continueranno a studiare in azienda ma saranno al tempo stesso nostri colleghi e quindi riceveranno oltre alla formazione a scuola anche una formazione molto basata sull'esperienza lavorativa nelle nostre strutture aziendali quindi alternando i banchi di scuola alle aule della nostra azienda ma anche all'esperienza concreta sul campo e sugli impianti questo perché pensiamo che questo mix questa sinergia sia fondamentale per migliorare la formazione delle persone altra iniziativa importantissima che si aggiunge è un progetto pilota sull'abbandono scolastico come voi sapete è una piaga è una piaga veramente preoccupante quella dell'abbandono della scuola perché intanto in Sicilia coinvolge più o meno uno studente su quattro ma perché soprattutto depaupera il nostro il nostro patrimonio di risorse più pregiate ossia le risorse dei giovani e quindi noi abbiamo inteso anche qui in collaborazione con le scuole avviare un progetto pilota quindi anche su questo cercheremo di lavorare e pensiamo anche sulla base di altre esperienze avute in altri contesti che questa iniziativa possa contribuire a ridurre questa piaga in occasione della festività di San Pio da Pietralcina come da sempre organizzata e promossa dalla parrocchia Santa Maria di Bettalemme di Gela guidata da Don Giovanni Tandurella si terrà la venerazione delle reliquie di San Pio ricevute dalla postulazione generale di Roma i festeggiamenti si tengono oggi e domani e si concluderanno domenica 25 settembre alle 19 con la messa solenne che sarà preseduta dal vescovo di Caltanissetta Monsignor Mario Russotto presso la chiesa Santa Maria di Bettalemme ed in occasione della festa del patrono di Caltanissetta prevista per giovedì 29 settembre prossimo gli uffici della prefettura quel giorno rimarranno chiusi per l'intera giornata fai la cosa giusta mantieni il decoro urbano della nostra città oggi venerdì tra le 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile cosa conferire avanzi di cibo piccoli ossi scarti di cucina di frutta e di verdura formaggi e salumi avanzi di pane alimenti avariati e scaduti fondi di caffè filtri di tè e camomilla sfalci piccole potature fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso pezzetti di legno paglia segatura ceneri spente di camini tovaglioli di carta unti carta assorbente usata escrementi piume peli e lettiere di piccoli animali domestici l'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile dalle 22 alle 5 anche nei giorni di domenica martedì e giovedì un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto eccoci seconda parte del telegiornale mercoledì 12 ottobre l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta Roccazelle e Borgo Manfria termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado passa da 4 a 9 comuni il gruppo d'azione costiera unicità del Golfo di Gela oltre a Lampedusa Ricata Butera e Gela quest'ultimo capofila entrano a far parte Palma di Montechiaro Butera Acate Santa Croce Camerina e Vittoria in tutto detto al sindaco di Gela e presidente del GAC Domenico Messinese il territorio mette assieme oltre 250 mila abitanti quasi 200 barche presenti e più di 150 km di costa requisiti che ci rendono ancora più competitivi per beneficiare delle risorse europee disponibili a Gela così si lavora all'elaborazione di un piano di sviluppo e parallelamente sul versante infrastrutturale la prossima settimana sottoscriveremo l'accordo dice il sindaco per il progetto del porto rifugio sbloccando finalmente i relativi oneri di compensazione intanto sono partiti proprio dal comune di Gela gli incontri con i progettisti del piano di sviluppo locale legato alla pesca a valere sulle risorse del nuovo programma operativo 2014-2020 il GAC ha programmato una serie di incontri con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore della pesca al fine di condividere informazioni istanze e aspettative con gli attori locali e con i soggetti istituzionali coinvolti l'obiettivo è quello di elaborare una strategia di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di partenariati locali l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete di attori locali al fine di una candidatura per il periodo di programmazione 2014-2020 stiamo ripartendo con la programmazione con dei fondi comunitari e con la progettualità per migliorare le aree portuali dei comuni che fanno parte del GAC adesso flag secondo le nuove indicazioni è un avvio propedeutico dove si stanno incominciando a vedere quali sono le idee progettuali a poter elaborare e poter quindi finanziare partiamo con delle idee molto chiare per quanto riguarda sia le infrastrutture e soprattutto la comunicazione per rilanciare i nostri territori quello che è mancato ai territori in questi anni è la progettualità e un'idea di sviluppo dei territori cioè questo importante strumento il gruppo di azione costiera che grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali potrebbe portare risultati concreti come d'altronde già è stato fatto con la precedente programmazione che ha permesso l'installazione di nuovi box ad esempio dedicata alla darsena di Marenero sicuramente un'opportunità da non perdere per lo sviluppo dei territori domani mattina alle 11.30 nella Pinacoteca Comunale di Gela i rappresentanti del GAC incontreranno le associazioni dei pescatori gelesi Federco Pesca Cogepa e gli operatori interessati per confrontarsi e condividere le strategie e gli interventi da inserire all'interno del piano la riserva naturale Viviera di Gela in collaborazione con l'IPU di Niscemi Caltanissetta Naro e Sera di Falco promuove per sabato 1 e domenica 2 ottobre l'evento dell'Eurobeard Watch la grande fotografia europea della migrazione degli uccelli selvatici nel momento clou del loro ritorno verso le aree di svernamento del Mediterraneo e africane a cui aderiscono 37 paesi europei l'iniziativa coinvolgerà la riserva naturale Lago Soprano di Sera di Falco il lago San Giovanni Annaro il lago di Sueri a Mazzarino e nella giornata del 2 ottobre la riserva naturale Viviere di Gela l'Eurobeard Watch è organizzato da Beard Life International e in Italia dalla LIPU in molteplici aree naturalistiche con forte presenza di uccelli selvatici come laghi zone umide coste e foreste zone di protezione speciale e aree importanti per gli uccelli in questo periodo potrebbero essere avvistate anche la cicogna nera e l'aquila anatraia minore per informazioni c'è anche un numero telefonico al fine di partecipare 345-661-2743 lo ripetiamo 345-661-2743 sono in pagamento al comune di Gela i contributi relativi all'acquisto dei libri di testo riservati agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2013-2014 lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali e all'istruzione Licia Abela i beneficiari degli eventi di ritto per riscuotere la somma dovranno recarsi agli sportelli della banca Unicredit muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale e ora parliamo di cinema con il lavoro della regista gelese Gianni Virgadaula presentato oggi in conferenza stampa nei locali dell'Otto il Sole si comincia a lavorare il film Gelone La spada e la gloria della regista Gianni Virgadaula promosso dall'Istituto Culturale di Sicilia per la cinematografia Ollus il film sarà patrocinato dall'assessorato regionale ai beni culturali e dell'identità siciliana in collaborazione con la Film Commission di Siracuse di Agrigento e il comune di Gela i primi giac si terranno al castello Biscari Decate a Marina di Dacusa e anche nella città del Golfo Gelone è un bellissimo progetto che ci consentirà di far conoscere veramente questa figura in Italia e noi speriamo anche nel mondo perché il progetto nasce già come idea di distribuzione internazionale ovviamente Gelone sarà anche pretesto per parlare del periodo forse più bello più aureo della Sicilia antica la Sicilia greca un periodo forse irripetibile di cui ancora conserviamo testimonianza nelle nostre città più importanti Agrigento Siracusa e anche qui nella nostra Gela un patrimonio molto bello importante che però non sempre viene come dire valutato e visto a sufficienza dai turisti questo purtroppo è un danno ma chissà che il film Gelone non costringa poi i turisti anche a venire dalle nostre parti Paola Sini è la protagonista femminile del film con lei anche Michele Nicotra Tony Gangitano Alfonso Marchica Gestar il popolare attore iraniano Armaz Vasvi che presto sarà accanto a Terence Hill nella nuova serie Don Matteo e in una fiction televisiva protagonista assieme a Beppe Fiorello Gianni è un grandissimo professionista uno dei pochissimi che ancora si spende e si impegna per far capire quanto sia importante il mezzo cinematografico per ricostruire la storia questo è un progetto che avrà luogo in zone naturali in zone non ricostruite questo per un attore è importantissimo e poi insomma alla mia radice sarda insieme a tutta la miscellanea di quello che il mio lavoro porta quindi prendi un po' qua e un po' là mi hanno fatto sentire nei panni da marette soprattutto dal punto di vista della deontologia della persona una grande regina e farò qualsiasi cosa per darne degna rappresentazione nel cast anche gli attori gelesi Emanuele Giammusso Marco Abbate Elena Di Stefano Clara Cirignotta Erika Pelligra e Maria Giannone è stato pubblicato sul sito internet dell'istituto comprensivo Giovanni Verga di Gela all'indirizzo vergagela.gov.it il bando di reclutamento di esperto esterno in lingua inglese progetto infanzia con l'inglese per l'anno scolastico 2016-2017 modalità di accesso essere docente madrelingua o in subordine esperto con comprovata esperienza in percorsi scolastici infanzia in lingua inglese i termini di partecipazione sono previsti entro le ore 12 del 4 ottobre partiranno lunedì prossimo gli interventi di deratizzazione a Gela lo ha reso noto l'assessore comunale all'ambiente Simone Siciliano fino a mercoledì 5 ottobre personale specializzato agirà in tutti i quartieri il calendario della deratizzazione con le zone interessate è disponibile sul sito internet del comune ai cittadini è rivolto l'appello a non toccare o danneggiare le esche utilizzate nel servizio abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni a l'abbiamo a